Di fake news e di informazione polverizzata, di questo parliamo Silvia Vencivelli, divulgatrice scientifica e giornalista, a cominciare dalla divisione di più cose quando si parla di Covid-19, catastrofisti, pessimisti, negazionisti, menefreghisti, come lo dividiamo il Paese oggi dopo tutti questi mesi, da epidemia a pandemia? Senti, è un po' ridicolo che ci troviamo a doverlo dividere in questo modo, cioè di fronte a un problema di sanità pubblica non dovrebbe essere, cioè il nostro approccio non dovrebbe essere quello calcistico, ecco che noi italiani tendiamo a usare in molte circostanze. La distinzione che fai tu probabilmente riflette la situazione raccontata da certi programmi televisivi o anche da vederla sui social, sembra che ci stiamo dividendo in squadra a seconda della paura che abbiamo rispetto a questa pandemia. La paura è un sentimento del tutto umano, ragionevole, accettabile, anzi biologicamente necessario a tenerci in vita, che va anche tenuto in considerazione quando parliamo anche di comunicazione, soprattutto quando parliamo di comunicazione della scienza. Questa è una cosa che gli scienziati tendono a non fare, a considerare che quando si parla di scienza si dovrebbero dare dei dati, dei numeri, cose fredde e diciamo scarsamente interpretabili, invece la realtà delle cose è che ciascuno di noi ha le proprie emozioni, scienziati compresi e quindi non esiste una notizia scientifica che non venga poi rivestita appunto di questa lettura, di una lettura emotiva che ahimè o anzi non ahimè è così, precede quella razionale. Noi siamo prima di tutto macchine emotive a cui ogni tanto capita di pensare. Questa è una frase che viene attribuita Antonio Damasio, forse non è nemmeno vera, forse è una fake news anche questa, però racconta molto bene la realtà delle cose. E noi come macchine emotive quando parliamo di scienza, prima di tutto, prima di vedere il numero e il dato, leggiamo le cose con la lente delle nostre emozioni. Ecco perché poi ci sono quelli che oggi sono più catastrofisti perché hanno più paura e quelli che oggi sono più negazionisti perché magari alla paura rispondono negando la realtà delle cose, perché è un conforto la negazione, no? Così come il catastrofismo può essere una forma di conforto perché ti dà l'autorizzazione a chiuderti dentro casa e a non affrontare tanto le cose. Alla fine credo che... Certo è una cosa mai vista, quindi in una situazione mai vista, anche se è stata immaginata e poco raccontata, forse è normale che in tanti reagiscano anche di fronte alla scienza che ci ha sempre rassicurato in maniera titubante, perché gli stessi scienziati hanno... In realtà che fosse una situazione imprevista vale per noi, uomini occidentali privilegiati che da 70 anni a questa parte non avevano né carestie, né guerre, né epidemie, quindi noi abbiamo vissuto in una parte fino ad oggi, in una situazione di grandissimo privilegio. Non è così per molte altre persone che vivono nel mondo anche in questo momento, per cui noi ci siamo fatti effettivamente sopraffare dalla paura in questo momento e quindi anche queste squadre, io le leggo in questo modo, cioè sono, diciamo, situazioni... Che poi uno può essere un giorno catastrofista e il giorno dopo negazionista e a me stessa succede un giorno di essere più fatalista e di dire vabbè e il giorno dopo invece di essere più rigorosa nell'adozione delle norme igieniche. Tutto questo è una questione appunto di come viviamo ciascuno di noi con le nostre emozioni in una situazione che scientificamente non ha niente di, come dici tu, di imprevisto. Cioè noi lo sapevamo che esiste la possibilità che le malattie passino da una specie vivente all'altra, che noi siamo specie viventi come tutte le altre, quindi dobbiamo metterci nel pacco di questa possibilità biologica che gli scienziati conoscono da tempo. Nel corso del Novecento ci sono state diverse altre pandemie. Nel corso dei primi venti anni di questo secolo, del 2000, abbiamo visto almeno due epidemie da coronavirus nascere e sono state contenute, ma non era detto che la terza venisse contenuta, infatti non è stata contenuta e adesso ci stiamo confrontando con lei tutti i giorni. Quindi diciamo così, una possibilità che la scienza aveva già previsto, esattamente come quella di un grande terremoto. Si confronta col fatto che noi questa possibilità nel raggio di una vita umana non l'avevamo vista, quindi io che ho 43 anni, francamente non mi ero mai trovata di fronte in una situazione di questo tipo perché ho sempre abitato in Italia, quindi in un paese protetto, e adesso la trovo assolutamente anomala e ne ho paura. Forse l'ho negata fin qui, ho negato fin qui la possibilità che la mia vita venisse scossa, come è stata la vita dei nostri nonni da un evento su scala globale di questa gravità, però adesso la dobbiamo affrontare. Forse al tempo però dai nostri nonni non c'erano scienziati, diciamo così, alla portata, così tanto vicini, così nessuno aveva la possibilità di parlarci o di ascoltarli in televisione, chiaramente, quindi noi in questo periodo storico abbiamo chiesto spiegazioni, delle risposte agli scienziati, ai medici, dopodiché abbiamo iniziato a metterli in discussione, senza nessuna competenza. Onestamente non è che la comunità medico-scientifica abbia fatto benissimo il proprio mestiere, ecco, onestamente abbiamo visto anche tanti di loro effettivamente, non solo anche loro dividersi in squadre, dimenticando che queste squadre sono squadre suddivise sulla base delle emozioni, quindi loro stessi dovrebbero cercare di ritornare all'oggettività delle cose, se i scienziati sono. Alexa, stop. Scusa, questo è il bello dell'essere in diretta così. una parte Alexa con i notiziari, quindi ti ridico. Beh sì, effettivamente siamo una generazione anche che è caratterizzata dal vivere l'informazione in una maniera molto particolare, ed è sempre più così, cioè ciascuno di noi è ricettore di informazioni su tantissime piattaforme, in tantissimi modi, non c'è più soltanto la vicina di Pianerottolo o il giornale di carta, o il radiogiornale o il telegiornale, tutte cose che si sono sommate nei tempi, ma negli ultimi vent'anni sono nati appunto i sistemi informatici che ci immergono in un ecosistema informativo molto complesso, negli ultimi dieci poi ci sono i social network e così via. Gli scienziati sono uomini come noi, hanno anche loro il loro profilo Facebook, Twitter, Instagram, e se li inviti in TV sono molto felici di andarci quasi sempre. Un po' perché si divertono, un po' perché molti di loro sono dei narcisi, un po' perché avere più risonanza mediatica vuol dire anche più attenzione nella comunità scientifica stessa, quindi diventare famosetti fuori dalla comunità scientifica. Ma il TV conta più di una pubblicazione quasi in questo momento? Ebbè, è stato dimostrato, non te lo dico così a sentimento, ma esistono anche degli studi scientifici su questa cosa, che hanno dimostrato che l'attenzione da parte dei media generalisti a uno scienziato o alle sue ricerche porta più finanziamenti alle ricerche successive, porta più attenzione da parte degli altri scienziati. Tu sai forse che gli scienziati all'interno della loro comunità hanno dei meccanismi di promozione del proprio lavoro che si fondano sul fatto che ogni scienziato scrive la propria ricerca, gli altri la leggono e la citano. Quanto più viene citata, tanto più questo verrà citato la volta dopo, diventa un po' più importantino nelle graduatorie, viene considerato un po' di più e diventa più importante. Quindi il meccanismo è quello di farsi conoscere dagli altri scienziati. Siccome anche gli altri scienziati guardano la TV, leggono i giornali, eccetera, che lo vogliamo dire o no, questi sono influenzati dai media normali tanto o forse anche di più quanto sono influenzati dalla letteratura scientifica. Quindi lo scienziato legge la letteratura scientifica ma poi di sera guarda la TV. Quindi se in TV vede un altro scienziato... Dici che succede anche nel resto del mondo o succede solo in Italia? No, 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 questa cosa è stata descritta, lo studio diciamo che l'ha dimostrato in primo luogo era americano per dirti. Lo ha studiato su quello che usciva su New York Times. In un periodo di tempo, era prima dei social network, ma è applicabile anche dopo, è uno studio molto importante su cui poi sono nate altre considerazioni che sono state convalidate anche da numeri, quindi hanno proprio la dignità, ecco, diciamo, di ricerca scientifica. Perché cosa succede? Il meccanismo psicologico è semplice. Se io oggi vedo te scienziata in TV, domani vado a vedere chi sei, cosa hai pubblicato. E leggendoti, così la tua ricerca mi entra in testa, è più probabile che la citi, è più probabile che la riusi, che le vada a consultare. Quindi averti visto su Facebook o in TV ti rende più famosetta anche nella tua comunità. Quindi questo è anche uno dei tanti meccanismi per cui agli scienziati conviene saper comunicare e chi lo ha capito lo fa. E lo fa molto volentieri. Considera che tra gli scienziati ci sono quelli che è giusto che lo facciano e quelli che magari poi fanno i furbetti. Perché sono esseri umani anche loro. Anche per questo esiste, diciamo, un filtro istituzionale. Quindi esiste una scienza, diciamo, istituzionale, pubblica, che dovrebbe avere dei portavoce, gestire la comunicazione esterna in maniera più regolare, più attenta, magari andare a fare... Diciamo che tra anche i più grandi esperti nessuno si sarebbe mai immaginato di andare in televisione a parlare di una pandemia, di un virus tuttora sconosciuto in questo senso. Ma se dico infodemia, cioè in un momento in cui potremo informarci in ogni modo, allo stesso tempo siamo totalmente disinformati. Ne abbiamo troppe di info. Guarda, la parola che hai usato, infodemia, è una parola che descrive benissimo la situazione di caos informativo, troppe informazioni che ci stanno arrivando. Non necessariamente false, anche perché in scienza falso vero non è religione, no? Dove c'è il dogma e il contrario del dogma. In scienza ci sono delle prove, degli esperimenti, qualcosa che è vero oggi non è più vero domani, bisogna mettersi d'accordo, non esiste, capito, qualcuno che arriva e dice è così e basta. Però l'infodemia è la situazione in cui arrivano troppe informazioni, quindi sono difficilmente gestibili da tutti, anche dagli scienziati. Questa parola è nata in ambito giornalistico nel 2003, quando c'era la SARS. Un politologo del Washington Post si inventò questa parola mettendo insieme informazione ed epidemia e disse ma non è che a furia di parlare così tanto dell'epidemia noi rischiamo di far arrivare delle informazioni così complesse che poi accaduta hanno delle conseguenze più gravi di quelle dell'epidemia stessa, sui mercati finanziari per esempio, la paura influenza i mercati finanziari, sulle vite personali, la paura ci influenza magari le nostre scelte, anche economiche, piccole o che ne so, la scuola a cui mandare i nostri figli, il viaggio che farò domani e così via. Quindi non è che troppe informazioni hanno delle ricadute personali e sociali più gravi di quello che stiamo andando a raccontare, cioè l'epidemia. Questo era il 2003, lo si disse per la SARS, in questi 17 anni la situazione è molto complicata, si è molto complicata, sono nate le cose che diceva appunto i social network, non c'è bisogno che lo dica io, ma sono nati anche nei social network, per esempio i fake, i bot, cioè quelle finte persone che sono a migliaia, decine di migliaia che dirottano l'informazione, perché poi noi giornalisti andiamo a vedere cosa succede sui social network e se un politico ha 20.000 like, tendiamo un pochino a crederci, magari 10.000 sono dei robot che in automatico lui se li ha pagati, mettono il like e qualsiasi cosa fa. Queste cose si studiano oggi, gli informatici sono anche in grado di riconoscerli questi bot. Ieri l'altro non esistevano, cioè nel 2003, ma nemmeno nel 2015 ci si poneva il problema, no, dell'esistenza di bot sui social network capaci di dirottare l'informazione. Come non ci si poneva tanto il problema di analisti specializzati per farti votare qualcosa sulla base di quello che in maniera tormentosa ti fanno vedere su Facebook ogni giorno. C'è un point in action, per esempio questa grande associazione di teenager adesso ormai da un po' di giorni se ne sta parlando con Trump, ma potremmo andarne a citare tantissimi, però poi come far capire che è una fake news, come entrare nella testa di una persona cercando di farla ragionare? Allora, fammi finire, come farlo è un casino, però quello che si può dire che appunto l'infodemia, quello su cui volevo appuntare l'attenzione, che è diventata così tanto un problema che anche l'OMS adesso usa la parola infodemia, cioè una parola che sono inventate persone come me e te, giornalisti, ecco, o l'editorialista, ecco, che comunque stava facendo una riflessione da esperto di comunicazione, adesso è una preoccupazione della sanità pubblica, perché troppe informazioni e poco gestibili diventano un problema di sanità, perché se io ricevo troppe informazioni e non le so gestire, posso pensare che siano tutte stupidaggini e quindi non ne seguo più nemmeno una, pensare che la situazione è diversa da come viene registrata, perché magari su di me in quel momento quel tal social network, la mia personale paura, il mondo in cui vivo, hanno dirottato l'attenzione più su una certa informazione che su un'altra, magari quell'informazione poi è sbagliata o è parziale o è provvisoria o è pilotata da qualcuno che ci sta guadagnando, perché poi esistono anche fake news che portano soldi in tasca a qualcuno, non dimentichiamo, possono essere molto rischiose anche sotto questo profilo qua. Quindi il caos informativo è una preoccupazione oggi sanitaria, scientifica, non è più soltanto una preoccupazione di chi ci deve stare come me e te e deve forare l'attenzione del pubblico per diventare appunto, cioè per essere ascoltato come giornalista. Detto questo tu mi chiedi, ma come si fa allora a far sì che queste fake news che circolano non siano preponderanti? Intanto bisogna essere un po' sinceri nel raccontarle, perché le fake news non sono, cioè non esiste il total fake e il total true in questo mondo, l'abbiamo visto anche sulle mascherine. Esiste una cultura scientifica in formazione che gli scienziati stanno giorno per giorno acquisendo e che fa sì che ieri ci dicessero salutatevi col gomito e oggi ci sono resi conto che col gomito non va tanto bene. Abbiamo accumulato dati che ci fanno pensare che questa cosa, non è che prima si stessero sbagliando, è che prima non c'erano abbastanza dati. Questa cosa vale per tutta la nostra medicina, per tutta la nostra salute, cioè semplicemente le cose cambiano perché le conosciamo sempre meglio. Quindi esiste tutta una categoria di... Non credo che siano mai stati in vacanze in Liguria gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbero capito che insomma noi ci stiamo lavorando da tempo. No, però esiste poi un'altra categoria di fake, cioè le fake news andrebbero studiate, come si fa a combattere, ci vuole gente che si mette lì e studia e capisce come sono fatte perché poi esistono anche fake news invece francamente fake ma molto semplici per noi da interpretare perché sono sempre le solite bagianate che vengono modificate dall'attualità e che funzionano molto bene perché sono delle fiabe che ciascuno di noi ha già accettato nella propria testa che sono magari state cristallizzate da un film e che magari con una notizia una volta hanno pensato di essere convalidate. Tipicamente lo scienziato pasticcione a cui scappa il virus di Maui o lo scienziato pagato dai poteri forti per fare un'arma biologica. No, i grandi complotti. Ecco, questa è la teoria del grande complotto. Funzionano molto bene perché sono delle bellissime fiabe e anche laddove sono, come in questo caso, assolutamente false, funzionano molto bene perché chi ci crede ti viene a dire, chi ci crede intendo anche colleghi nostri, ti viene a dire riesce a dimostrarmi che non è così? Attenzione perché nella scienza non si può dimostrare tutto, non si può dimostrare che un virus ha origine naturale ed è molto difficile anche dimostrare che un virus non abbia origine artificiale. Cioè lo possiamo dimostrare con una certezza del 99%, così come vale per i terremoti. Non esiste il 100%, però l'onere della prova andrebbe spostato su chi afferma che il virus è scappato dalle mani dello scienziato pasticcione e non su chi dice è terribilmente improbabile. E fate attenzione che uno scienziato che vi dica ma è così terribilmente io non direi, lo troviamo sempre perché i licenziati non sono tutti granitici, cioè c'è anche quello che la pensa in maniera diversa o per varie ragioni appunto c'è il narciso che quella volta lì vuole stupire oppure c'è quello che ha dei dubbi magari solo lui perché gli altri quei dubbi non ce li hanno ed è scorretto da parte nostra andare a intervistare proprio lui come se la comunità scientifica fosse spaccata in due, capito? Ecco, questo tipo di fiabe e questo tipo di convalide che troviamo nel mondo per ambiguità, giocate male attecchiscono molto bene e quando tu mi dici come si fa a combatterle beh, si devono combattere con l'onestà di un racconto della scienza della scienza in corso e di quello che la scienza sai non sa che è un po' onere nostro e un po' deve essere onere della comunità scientifica stessa e su questo torniamo a quello che dicevi tu all'inizio cioè sti scienziati un po' di pasticcino ha fatto più che di pasticcissiera la curiosità di capire come di fronte a quello che non riuscivamo a spiegarci ma di fatto nemmeno loro perché viviamo un po' nell'incertezza da tanti mesi abbiamo iniziato ad accusarli però quando dico infodemia e tu mi spieghi giustamente come stiamo vivendo questo momento storico ci mettiamo dentro l'emotività quindi ho iniziato parlando di catastrofisti così come dei negazionisti arrivo anche ai sospetti nel senso che a me ha colpito quello che dici e che scrivi perché giustamente il sospetto cioè il dubbio fa parte della persona intelligente e il sospettoso è anche quella persona intelligente che però si lascia un po' sedurre da delle info non del tutto corrette Sì, questa cosa del sospettoso me la sono un po' inventata è la parola che ho usato mi pare che funzioni anche se tu la usi così hai capito in che senso l'ho usata l'ho usata per indicare tutta quella fascia di persone ampia di persone che non possono essere accusate di essere magari strette di mentalità o appunto assolutamente impermeabili alle critiche come ogni tanto viene detto dei Novax quei duri e puri i Novax duri e puri i Novax duri e puri sono pochissimi sono meno dell'1% degli italiani però c'è un buon 15% di persone che pur appunto non potendo essere accusati di essere superficiali sono persone tipo me te ecco diciamo magari non sono che però hanno dei dubbi sulle cose hanno dei dubbi rispetto a quello che la comunità scientifica dice loro in certi ambiti in particolare soprattutto negli ambiti in cui in quel momento magari stanno vivendo una fragilità e questo perché mi è venuto da pensare perché c'è stato un periodo storico quando in Italia sembrava che l'obbligo vaccinale fosse l'argomento più importante del mondo l'obbligo vaccinale peraltro sui bambini quindi un tema che interessava i genitori dei neonati in quel momento era un tema su cui si scannava si apriva la campagna elettorale su l'obbligo di vaccinazione dei bambini in quel periodo parte della comunità scientifica aveva cominciato a rivolgersi agli italiani dicendogli asini intanto come se la maggior parte degli italiani non facesse vaccinare i bambini invece no la maggior parte degli italiani fa vaccinare i propri figli poi come se non far vaccinare i propri figli fosse una questione di ignoranza e poi come se il dubbio la perplessità rispetto al vaccino non fosse accettabile invece io che sostengo che avere delle paure avere dei dubbi sia non solo accettabile ma terribilmente umano e anzi quasi saggio ogni tanto mi sono chiesta se esistessero esistessero dei modi per conoscere queste persone no? su ampia scala e banalmente se uno va su google scopre che l'ISTAT l'ISS insomma esistono ma non solo le singole regioni insomma esiste esistono tantissime indagini statistiche che hanno descritto i nostri comportamenti rispetto in quel caso all'obbligo vaccinale ma anche rispetto alle terapie complementari no? quelle non convalidate dalla scienza quelle non accettate dalla scienza e che si sono chieste chi sono le persone che aderiscono a queste filosofie che spesso coesistono no? quindi chi cioè spesso chi aderisce alle terapie non convenzionali ha più dubbi sui vaccini perché in fondo sono anche questi prodotti della farmacopea tradizionale normale diciamo quella delle industrie farmaceutiche normali e il risultato è stato che le persone che fanno parte di questa categoria sono tieniti forte Francesca donne tra i 25 e 45 anzi 35 e 55 forse un pochino di più laureate con un mestiere che permette loro di mantenersi quindi sono donne autonome dal punto di vista economico tipicamente laureate tipicamente che abitano nel centro nord del paese tu conosci qualcuna che corrisponde a questa descrizione? certo io stessa per esempio tu sei così sei donna hai una laurea hai un mestiere con cui ti mantieni non so dove abiti ma se non abiti nel centro nord ecco l'unica eccezione a questa categoria hai più di 25 anni meno di 55 adesso non diciamo proprio così si potrebbe sì comunque sì comunque ci siamo dentro quindi a quel punto quando io ho letto questa descrizione quasi mi sono offesa ma che mi danno dell'asino a me o perlomeno danno dell'asino e dell'ignorante a una persona che mi assomiglia tantissimo sotto tutte le diciamo le categorie ma anche merceologiche una probabilmente che fa la spesa dove la faccio io ma magari compra più bio di me io non compro bio oppure perché che ne so ecco e quindi mi sono mi sono detta queste persone chi sono e ho cominciato a guardare intorno a me ho scoperto che sono le mie amiche le mie compagne insomma sono persone a cui voglio anche bene quindi anni fa ho cominciato a intervistarle nel libro che hai citato tu appunto che si intitola Sospettosi in realtà non ho intervistato i miei amici perché ho voluto fare un lavoro giornalisticamente più pulito ecco però sono andata a intervistare persone che diciamo che fanno parte di categorie che non possono essere accusate appunto di ignoranza persone che vivono magari nelle università magari che fanno appunto che hanno il negozio bene in centro fanno i professori universitari fanno l'infermiera fanno cioè non si tratta di marginalità voglio dire si tratta della nostra vita dell'appunto del nostro circondario umano perfettamente ecco analogo a quello che siamo noi e che noi non ci sogneremo mai di insultare ecco trovandoceli davanti e le ho chiamate così immagino che tu abbia pensato un po' a loro in questi mesi di pandemia ma certo perché poi ne faccio parte anch'io cioè la cosa che poi alla fine del lavoro mi sono resa conto che anch'io ho avuto i miei dubbi i miei sospetti in questi mesi di pandemia alcune di queste persone le ho viste magari più fragili poi se vai a vedere le loro storie hanno delle ragioni di fragilità che un giorno potranno essere le mie un babbo malato e quindi una terribile paura di un virus che colpisce di più i maschi anziani malati come potrebbe essere appunto il padre della mia amica oppure hanno che ne so hanno avuto delle asme importanti da piccoli io sono stata risparmiata da queste cose ma questo non vuol dire che lo sia in futuro e non vuol dire che in futuro non possa vivere anch'io una grande paura come alcuni di loro li ho visti li ho visti vivere non è la scienza che diciamo la mia cultura scientifica che mi difende è la mia condizione personale in questo momento che è privilegiata in un mondo in cui non a tutti capita di vivere lo stesso privilegio e quello che magari ieri era vita normale oggi è una situazione in fragilità perché appunto oggi viviamo un'epidemia che colpisce di più categorie di persone che magari qualcuno in famiglia ha e fino a ieri gestiva senza particolari timori assolutamente se poi restiamo sul sospetto fa molto riflettere il fatto che il vaccino serve per la salute allo stesso tempo è una questione economica e geopolitica quindi si sente parlare dei paesi in corsa su questo un vaccino non testato un vaccino che sarà a novembre non sarà a novembre dove si inserisce poi la fake news o la troppa informazione in tutto questo quando poi ogni giorno c'è uno quindi parlarne dopodiché quando ci sarà ci si renderà conto abbastanza in fretta che chi prima avrà la disponibilità del vaccino prima uscirà dalla crisi economica perché riuscirà a mandare a lavorare prima le persone riuscirà a rifar partire i consumi e così via quindi ci sarà una corsa ad accaparrarselo che sarà non è un caso quindi che la Cina stia dicendo lo abbiamo lo avremo novembre e gli Stati Uniti abbiano speso più di tutti esatto è una questione anche terribilmente economica ma ancora non sappiamo se questi vaccini dureranno tanto per esempio il vaccino dell'influenza ogni anno va rifatto perché l'influenza cambia un pochino in maniera tale che l'anno prossimo non va più bene il vaccino che abbiamo fatto l'anno scorso è un coronavirus così perché i coronavirus sono virus molto diffusi che ci danno normalmente raffreddore in noi e in tante altre specie animali e i cui anticorpi non ci proteggono per sempre peraltro l'immunità è una cosa molto complessa non è fatta solo di anticorpi non sono solo gli anticorpi a proteggersi quindi parlare e riuscire ad andare a vedere soltanto gli anticorpi ci racconta una parte di quello che adesso gli scienziati stanno studiando che è terribilmente più complicato quando ci sarà il vaccino si dovrà decidere chi lo fa per primo quindi lo fanno per primo i più fragili o quelli che tirano più la carretta economica di un paese e saranno decisioni politiche da prendere questo e sarà molto molto complicato e io credo che cioè io per esempio adesso il vaccino anti-influenzale io lo farò un po' perché si è visto che i vaccini proteggono cioè ogni vaccino protegge anche dalle malattie accanto non esattamente solo dalla malattia per cui ti stai proteggendo e quindi avere un po' più di protezione contro il coronavirus che prima o poi credo che più o meno tutti quanti incontreremo mi rassicura perché anch'io vabbè ho dei genitori anziani che voglio proteggere voglio proteggere me stessa che non posso ritenere invulnerabile in eterno una bambina piccola e così via e un po' perché sinceramente di ammalarmi nel 2020-2021 nell'inverno 2020-2021 di una malattia che può anche essere grave con l'influenza non mi va perché il sistema sanitario è già abbastanza sotto pressione sarebbe un rischio per me e un sovraccarico per un sistema che tutto sommato pago io con le mie tasse quindi mi fa piacere difendere anche da questo punto di vista quindi ce lo dimentichiamo ogni tanto che è pubblico esatto ecco vogliamoli bene ecco è pubblico ed è quello che ci tiene su anche con anche in modi che non vediamo direttamente appunto l'igiene pubblica la sanità pubblica l'intervento politico sulle scuole sui bambini piccoli sugli anziani ecco è tutta roba che paghiamo noi che quindi dobbiamo difendere anche con gesti di responsabilità come ammalarci un po' meno metterci un po' meno nelle condizioni di fare pressione sul sistema sanitario che era poi anche la ragione per cui si diceva vai pure a correre però se ti sloghi la caviglia vai in un pronto soccorso che in questo momento forse non ce la fa quindi nel senso per te e per chi in quel pronto soccorso ci lavora e che in questo momento è molto sotto pressione come la nostra classe medica forse forse un gesto di responsabilità come evitare di metterti nei guai forse potresti cominciare a farlo no? è vero sono riflessioni che bisognerebbe un po' imparare a fare un po' più ad ampio spesso credo che lo facciano altrove quando se sei ricco ti curano se sei povero ci pensano un po' di più insomma ma abbiamo un minuto per salutarci come ci salutiamo? con una tua considerazione la mia considerazione in generale credo che si debba avere un pochino più di rispetto per l'altro per le paure dell'altro le emozioni dell'altro e questo è un invito che faccio soprattutto alla comunità scientifica che poi inviterei anche soprattutto a studiare perché numeri e indagini esistono e noi sappiamo benissimo attraverso i numeri e la statistica riconoscere il nostro pubblico sapere chi è che cosa crede che cosa sa di che cosa ha paura di che cosa ha bisogno e su questa base possiamo impostare una comunicazione migliore il mio mestiere è la comunicazione io credo che la comunicazione sia possibile e sia possibile anche basata su cioè una comunicazione migliore sia possibile anche basandola su basi scientifiche le basi scientifiche ci sono e per fortuna esistono gli scienziati che ce le sanno mettere a disposizione è stato un piacere è stato un piacere anche per me ciao Francesca ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti